Gli anni di piombo, come li abbiamo conosciuti negli anni 70 e 80, non torneranno perché le condizioni storico-politiche e anche geopolitiche sono completamente diverse. Però il rischio che forme di contestazione violenta, anche armata, si inseriscano nei conflitti sociali, questo rischio c'è e mi auguro che non si verifichi. Tornando al clima che si respira, qualcuno ha fatto riferimento agli cosiddetti anni di piombo, è un riferimento improprio? Improprio, completamente improprio, a prescindere che il metallo è lo stesso, però è completamente fuori bersaglio. La ribellione comporta, dal mio punto di vista, una partecipazione di molti soggetti, molti soggetti improvvisamente si ribellano. Esiste oggi un risentimento, un rancore nei confronti della classe dirigente tutta, che può avere delle manifestazioni di collera personale improvvisa, ma non organizzata. Individuale e non collettiva? Individuale, sì. Rispetto allo sparatore che ha ferito dei carabinieri davanti a Palazzo Chigi, c'è chi inneggia, blog, manifesti, c'è chi lo maledice solo perché non ha mirato un politico e ha ferito un carabiniere. Che senso ti dà tutto questo? Di disagio e posso dire anche con franchezza di schifo, perché le cose che abbiamo letto, che abbiamo sentito dopo quell'attentato, che poteva portare a due morti, anche se ha portato a due feriti, uno di cui uno gravissimo, le cose che si sono lette, che sono state scritte, tutto in base al fatto che lui ha detto che voleva arrivare a mirare i politici, sono francamente ignobili, ma è ignobile soprattutto chi le enfatizza sui media, in particolare sugli strumenti di comunicazione sociale. L'ho sentito anche io questo giudizio e lo condivido, sì, se proprio si dovevano sprecare delle pallottole era meglio andare sopra un bersaglio più significativo che delle persone che stanno lì a fare i loro doveri, a proteggere, almeno loro lo stanno facendo i loro doveri, hanno sparato su quelli che non lo stanno facendo i loro doveri. Ma secondo te c'è una relazione tra episodi tipo quello di Roma e di Perugia, dove si è fatta violenza verso terzi, e invece gli episodi di violenza verso se stessi, cioè i suicidi di imprenditori e lavoratori? Sono due fatti che hanno una relazione all'interno di questo contesto drammatico, ma che sono proprio eticamente completamente diversi. Quegli imprenditori e quei lavoratori disoccupati che si sono suicidati non hanno voluto aggredire altri, non hanno scaricato su altri le loro debolezze o le loro difficoltà. L'hanno fatto, devo dire, anche con un atto che merita un grande rispetto, un grande dolore, ma un grande rispetto. L'hanno fatto su se stessi. È totalmente diverso. Chi scarica invece sulla collettibilità, su persone innocenti, la propria rabbia, ammesso che sia rabbia sociale, spesso è soltanto sintomo di un fallimento individuale. Il caso ultimo di Preiti credo che sia soprattutto un caso di fallimento clamoroso della vita personale. C'è un impoverimento civico, nel senso che quando un cittadino è valutato secondo il suo potere di acquisto per poter accedere a dei diritti come la scuola, la sanità o la giustizia, quando è valutato secondo questi criteri, se ha potere d'acquisto può accedere e se no niente, allora non è più un cittadino, diventa un cliente di un'azienda. Quando uno Stato diventa un'azienda, in questo c'è un impoverimento civico. Lei ha detto a proposito di Grillo, sono contento che ci sia Grillo che riesce a canalizzare lo scontento perché al suo posto potrebbe esserci un qualunquista ruffa popolo da marcia su Roma. Ma non è il comico genovese forse un qualunquista ruffa popolo che voleva marciare su Roma? Poi c'è anche pure ripensato. Qualunquista no, perché gli argomenti ci sono. Lui ha detto tante cose giuste durante questi anni nel suo blog. Erano delle cose giuste che rimanevano quelle di una specie di opinionista. Da quando questo opinionismo è diventato invece una forza politica, allora improvvisamente sono diventate qualunquiste queste cose. Non sono qualunquiste affatto. Erano delle opinioni ragionevoli, sane, che oggi si sono organizzate in forza politica. Per me è ancora sgangheratissima. Grillo è un moltiplicatore della rabbia o è un fattore di suo contenimento? E tutte e due le cose, paradossalmente. Lo tsunami, così come l'ha gestito prima e dopo la campagna elettorale, ha sicuramente moltiplicato la rabbia sociale e politica. Però è l'unico punto su cui sono d'accordo con lui quando ha detto che aver canalizzato verso le istituzioni questa rabbia sociale ha evitato finora all'Italia fenomeni come Alba Dorata in Grecia, cioè fenomeni di neofascismo, neonazismo. Sulle Brigate Rosse lei disse a suo tempo, e credo anche vi ha continuato a dirlo recentemente, che non era un'organizzazione terrorista ma di lotta armata. Ora, se etimologicamente la differenza è chiara, il terrorismo, come lei ha avuto modo di dire, è colui che organizza un atto che produce terrore nei confronti della gente andando ad attaccare soggetti inermi, le bombe sui treni, in una banca, eccetera. Dal punto di vista politico, la lotta armata, che invece ha obiettivi più individuati, più specifici, politicamente c'è una così significativa differenza? Prima di tutto, io penso che la differenza tra terrorismo e lotta armata sia una differenza significativa. dal punto di vista proprio anche dei risultati. Di quelli della lotta armata sappiamo tutto, e hanno scontato abbondantemente le pene che sono state loro combinate. Di quelli della specie terrorismo, cioè delle bombe sui treni, a Piazza Fontana, a Piazza della Logget, e via, e così via, non sappiamo niente. Dunque credo che sia una differenza non solo di termini, ma anche di trattamento nei confronti di un fenomeno che ha coinvolto i corpi segreti dello Stato, corpi separati dello Stato. Poi per quello che riguarda quegli anni, io penso di sì. Penso che la mia generazione politica ha fatto la cosa giusta in quegli anni. la mia generazione politica nel senso di quella sinistra rivoluzionaria, di cui io sono stato parte fino alla sua fine, dall'inizio alla fine. compreso quindi anche... Comprese tutte le responsabilità. Siamo stati responsabili di tutto, ma non alcuni materialmente individuati e altri invece no. Moralmente. Siamo stati tutti quanti responsabili di tutto. Siamo stati l'ultima generazione rivoluzionaria del 1900. Io ho avuto una militanza comune con Ari De Luca negli anni di lotta continua, però mi pare che lui un vero ripensamento, non su lotta continua, ma su quello che è avvenuto in quegli anni sul terreno del terrorismo politico, purtroppo non l'abbia fatto. Sì, ma non c'è nulla di cui pentirsi, perché lotta continua col terrorismo non ha avuto niente a che fare. Il problema è che in quegli anni lotta continua semmai era un argine al terrorismo politico. Quello che Ari De Luca, secondo me, sbaglia, pur essendo uno scrittore di grande valore, è confondere i fenomeni che si sono verificati. Ora, quando si uccide per motivi politici, e si sono uccise decine e centinaia di persone in quegli anni per motivi politici, da virgolette sinistra e da virgolette destra, quello è terrorismo. Non è solo lotta armata, è lotta armata in forma terroristica. Esorcizzare la parola terrorismo non fa un buon servizio alla ricostruzione storica delle vicende drammatiche e tragiche del nostro paese, ma soprattutto non fa un buon servizio rispetto alle nuove generazioni di oggi che quella fase non l'hanno vissuta e che chi di noi ha una certa età deve fare di tutto perché non la debbano rivivere in modo assoluto.